Sono iniziati questa mattina i lavori di ampliamento del cimitero di Forcella. Sì, io e il sindaco questa mattina abbiamo fatto un sopralluogo appunto per verificare l'inizio dei lavori insieme alla ditta e i lavori stanno andando avanti, saranno abbastanza celeri, sarà un ampliamento diciamo abbastanza limitato ma ha un risultato strabiliante perché era stato promesso da tantissime amministrazioni precedenti alle nostre e nessuno ce l'ha riuscito, oggi sono iniziati i lavori veramente per dare a quel cimitero nuovi spazi a disposizione dei nostri concittadini della frazione di Forcella. State lavorando su tutti i cimiteri frazionali? Lavorando su tutti, tant'è che nei prossimi giorni ne apriremo degli altri, inizieranno i lavori in altri cimiteri ma adesso mano a mano poi li comunicheremo non appena i lavori saranno iniziati perché ci può essere sempre un piccolo problema che non abbiamo potuto valutare quindi oggi possiamo dire con certezza che il cimitero di Forcella sono iniziati i lavori per l'ampliamento ed è un risultato importante per la città, non solo per Forcella ma veramente per tutti quanti noi perché in questo mese apriremo tantissimi cantieri. Quando parliamo di ampliamento che cosa intendete? Di pochissimi loculi, parliamo di una ventina di loculi per l'emergenza proprio che si era creata ma nella realtà andremo a dare disponibilità anche in altri cimiteri, di altre disponibilità anche seppur limitate però nello stesso tempo una risposta all'emergenza che si era creata.